Cari amiche e cari amici del mio canale di YouTube, bentornati a questo nuovo video nel quale continuo a commentare le facezie e le incongruenze dell'intelligenza artificiale. Tra le varie intelligenze artificiali antelitteram che ho nominato nei miei video precedenti, mi sono dimenticato di citare anche gli assistenti vocali come Siri, Alexa, Cortana. Anche loro mostrano spesso comportamenti bizzarri e incongruenti e a volte ci riservano risposte davvero sorprendenti. Quanto accaduto di recente a Red Ronny è stato ripreso da diverse testate giornalistiche e ovviamente è stato imitato da Maurizio Crozza. Per chi non segue il personaggio o non sa a cosa mi riferisco, durante una delle sue lunghe dirette sui social, a Red Ronny è improvvisamente partita Siri. Le ha detto una frase sibillina del tipo mi fa piacere che tu la pensi così. Incuriosito, Red Ronny le ha allora chiesto informazioni su alcuni personaggi famosi, Crozza, Attarella, Draghi, Lameloni, se stesso anche, ottenendo risposte piuttosto sorprendenti. Ma torniamo a noi. Ehi Siri, chi è Luciano Drusetta? Ecco le tue informazioni di contatto. Ok, grazie. Oggi ho chiesto, non a Siri, ma a Bing, anzi per essere più preciso alla più recente versione di Bing, aumentata, non direi necessariamente migliorata dall'intelligenza artificiale, ho chiesto di recensire il mio ultimo libro. Eccolo qua. Tecniche di astrologia mondiale e collettiva. Come sempre ho impostato il tono generale della risposta su articolo di blog. E per non influenzare in nessun modo la ricerca, non ho formulato una domanda precisa, ma ho scritto solo queste parole. Recensione del libro Tecniche di astrologia mondiale e collettiva di Luciano Drusetta. Leggiamo insieme il risultato, che non è quello mostrato a video, perché anche le impostazioni iniziali erano un po' diverse. Dunque, ciao a tutti. Oggi voglio condividere con voi la mia recensione del libro Tecniche di astrologia mondiale e collettiva. Un'opera che si propone di illustrare i principi e le metodologie dell'astrologia applicata agli eventi e ai fenomeni sociali. Fin qui tutto perfetto, mi pare anche una buona definizione. Il tono è meno entusiastico e celebrativo rispetto alle recensioni precedenti. Forse questo è dovuto al contenuto particolarmente serio e tecnico del libro. Forse, chissà. Comunque, questo tono sobrio e concreto mi piace. Il libro continua, si compone di tre parti. La prima, vabbè, mi fermo un attimo per commentare questa mania che ha Bing di suddividere i libri in un certo numero di parti. assolutamente arbitrarie e non rispecchiano necessariamente la reale struttura del libro. Ma vediamo quali sarebbero queste tre parti secondo lei. La prima introduce i concetti fondamentali dell'astrologia mondiale, come i cicli planetari, le ere zodiacali, i punti cardinali e le case derivate. La seconda parte presenta le tecniche di analisi e previsione, come le rivoluzioni solari e lunari, le direzioni primarie e secondarie, i transiti e le progressioni. La terza parte offrirebbe una serie di esempi pratici di interpretazione astrologica di fatti storici e attuali, come le guerre mondiali, la recente problematica che tutti sappiamo, il terrorismo internazionale e le elezioni politiche. Vediamole adesso una per una, perché, ancora una volta, questa recensione artificiale contiene alcune imprecisioni. Il mio libro è composto da nove capitoli che, volendo, possono effettivamente rispecchiare una suddivisione in tre parti, ma non quelle che dice l'intelligenza artificiale. I primi due capitoli introducono il lettore ai criteri base che differenziano la lettura di un tema natale individuale dalla lettura di un tema natale collettivo o mondiale. Quando la carta astrale non si riferisce alla nascita di un essere vivente, si preferisce chiamarla carta di fondazione o carta di evento, a seconda dei casi che spiego nel mio libro. Seguono sei capitoli in cui elenco ed espongo in dettaglio le principali tecniche di astrologia mondiale e collettiva, spiegando che esistono tecniche tradizionali, alcune anche ormai in disuso, e tecniche più moderne. Spiego che ci fu un momento di crisi che colpì gli astrologi del secolo scorso, i quali non seppero prevedere lo scoppio della seconda guerra mondiale, nonostante l'abbondanza di tecniche di astrologia mondiale collettiva che avevano già a disposizione in quegli anni. Ciò indusse Henri Mouchon, André Barbot e tanti altri a estendere certe regole tradizionali come le grandi congiunzioni di Keplero fino a inglobare i pianeti trans-saturniani di più recente scoperta e li portò anche a lavorare nuove tecniche e nuove teorie come quella dei cicli planetari involutivi ed evolutivi e l'ICP, cioè l'indice ciclico planetario. Tutte cose di cui ho parlato tantissime volte nei video di astrologia mondiale che affollano ormai il mio canale di youtube che vi invito a esplorare, possibilmente dopo esservi iscritti e aver azionato la campanella delle notifiche. Infine il nono e ultimo capitolo del libro mostra come utilizzare con un esempio pratico un po' tutte le tecniche spiegate in precedenza. L'esempio pratico è un tema ancora di scottante attualità, cioè l'operazione militare speciale in Ucraina. Ma torniamo invece alle tre ipotetiche parti in cui l'intelligenza artificiale suddivide il mio libro. Dice così. La prima parte introduce i concetti fondamentali dell'astrologia mondiale come i cicli planetari, le ere zodiacali, i punti cardinali e le derivate. Ecco, forse l'intelligenza artificiale ha letto un qualche altro libro, non il mio, oppure ha frainteso il suo contenuto. I cicli planetari vengono trattati a fondo verso la fine del libro, ma questi vengono citati già nella prefazione di Anna Maria Morsucci eppure io li nomino fin dal primo capitolo, dove spiego che in astrologia mondiale si considerano eventi astronomici e terreni che possono avere carattere ciclico oppure eccezionale. E spiego quali sono questi eventi. Tra gli eventi ciclici celesti ci sono solstizi, equinozi, lunazioni, grandi congiunzioni di Keplero, poi ampiate alle congiunzioni e ai relativi cicli dei cinque pianeti più esterni del Sistema Solare. Tra gli eventi terreni ciclici o ricorrenti possono nominare le elezioni politiche e amministrative, le normali successioni al potere quando cade una legislatura o quando decade un presidente alla fine del proprio mandato, cioè alla fine del suo mandato naturale, alla fine di una legislatura naturale. Fra gli eventi terreni eccezionali cito i colpi di Stato, le crisi di governo improvvise, le elezioni anticipate, i regicidi o magnicidi, i conflitti bellici, nazioni che scontaino dalla cartina geografica oppure stati che nascono perché dichiarano la loro indipendenza da altre nazioni e così via. Fra gli eventi celesti eccezionali gli antichi consideravano ovviamente le comete, ma oggi sappiamo che alcune ricompaiono a intervalli regolari, come la cometa di Halley. Anche le eclissi di lune e di sole anticamente erano considerate eventi eccezionali, ma solo perché non si era ancora riusciti a calcolare la legge matematica che le regola. Oggi sappiamo che c'è e che si chiama ciclo di Zarros. Automaticamente, aggiungo io, quando un evento è ricorrente perde molto della sua drammaticità, ma il suo peso astrologico dipende ovviamente anche da altri fattori che trovate spiegati nel mio libro. Non sono però sicuro di capire bene l'accenno ai punti cardinali e alle case derivate. Beh, punti cardinali sì, forse si riferisce alla quadripartizione tolemaica, anzi sicuramente si riferisce a questa. Infatti adesso mi viene in mente che Ptolomeo attribuiva precisi segni zodiacali a ciascun punto cardinale e ci ha tramandato una vera e propria rosa dei venti astrologica di cui parlo anche nel mio libro. Quanto alle case derivate è una tecnica che utilizzo spesso, però in astrologia genetriaca o individuale. La uso anche quando faccio previsioni con transiti, rivoluzioni solari e rivoluzioni lunari. In astrologia mondiale più che altro spiego che nei temi di fondazione di realtà collettive le case assumono significati piuttosto diversi rispetto a quelli che hanno nei temi natali individuali. E nel mio libro naturalmente spiego quali sono questi significati. La seconda parte del libro continua, presenta le tecniche di analisi e previsione come le rivoluzioni solari e lunari, le direzioni primarie e secondarie, transiti e progressioni. Dunque, sì e no, queste sono tecniche di previsione individuali, cioè, per meglio dire, hanno bisogno di un tema natale a cui riferirsi. Quando abbiamo il tema natale di una persona possiamo usare queste tecniche per fare previsioni che riguardano quel soggetto. Personalmente non uso progressioni e direzioni, ma non perché non creda nella loro validità, semplicemente ormai mi sono specializzato in altre tecniche e lascio volentieri direzioni, progressioni e quant'altro a chi ne sa più di me, anche perché le utilizza sicuramente da più tempo. Ma, a parte questo, nel libro spiego che per studiare i transiti e le rivoluzioni solari e lunari di una nazione o di una realtà collettiva come può essere un'azienda, un gruppo di musicisti, una bocciofila, dobbiamo per forza avere il tema di fondazione di quella entità sovra personale. E, per maggiore precisione, diciamo che quando abbiamo a che fare con entità collettive e appunto sovra personali, il loro tema natale, come ho detto, si chiama più correttamente tema di fondazione o carta di fondazione. Esistono però, in astrologia mondiale, numerose altre tecniche di previsione che possono riguardare potenzialmente il mondo intero, qualsiasi nazione o area geografica. Mi riferisco alle comete, per esempio, alle carte di nazione, di ingresso, di eclissi. Sono tutti eventi astronomici nei quali si può dedurre dai segni zodiacali maggiormente coinvolti quale o quali nazioni saranno maggiormente interessate. Questo è un argomento estremamente interessante e si chiama topografia astrologica. Esiste anche la coreografia astrologica. Sono due concetti diversi, li spiego bene entrambi nel mio libro. Non ve li spiego qua perché sennò il libro non lo comprate. Terzo, naturalmente, infatti sono sicuro di averli spiegati bene anche in alcuni video che sicuramente trovate qui sul mio canale di YouTube. Infine, secondo Bing, la terza parte del libro offre una serie di esempi pratici di interpretazione astrologica di fatti storici e attuali come le guerre mondiali, quella cosa là che sappiamo, il terrorismo internazionale e le elezioni politiche. Come vi ho già accennato, il capitolo finale è dedicato all'analisi astrologica del conflitto in Ucraina. Ma in diversi altri punti del libro offro effettivamente una serie di esempi pratici anche su altri eventi, perché credo molto nel concetto di manuale teorico pratico, nel quale i concetti esposti vengono subito illustrati con esempi pratici. Così al lettore viene data subito la possibilità di mettere la prova nella pratica i concetti appresi. Tuttavia, gli esempi sui quali mi sono soffermato maggiormente non sono esattamente quelli elencati qui da Bing. Ma chi è appassionato di storia e di attualità non rimarrà certo deluso, perché in questo volume troverà comunque analisi di indubbio interesse astrologico. Per esempio, grazie alla collaborazione della mia amica Sachiko di Tokushima, ho messo alla prova la teoria dei cicli planetari di André Barbeau, confrontando la loro reale aderenza alla storia del Giappone. Poi ho confrontato con i principali eventi storici l'andamento dell'indice ciclico planetario nel corso dei secoli. E poi, giusto per citarne una, ho studiato le configurazioni astrali ricorrenti della storia medio recente dell'Italia. E poi tante altre cose. Per esempio, nel libro di Colamia sull'attribuzione degli Stati Uniti, del Messico e dell'Ungheria, per esempio, ha un segno zodiacale piuttosto che un altro. Ma continuo a leggere la recensione. Il libro è scritto in modo chiaro e accessibile, con un linguaggio semplice ma non banale. L'autore dimostra una grande competenza e passione per l'argomento, fornendo spiegazioni dettagliate e approfondite. Il libro è arricchito da numerose tavole astrali e grafici e anche altre illustrazioni che facilitano la comprensione dei concetti esposti. Questo è assolutamente tutto vero e non perché l'intelligenza artificiale usa sempre e comunque questi toni lusinghieri celebrativi a volte. Ma sono cose vere proprio perché ho avuto conferma da diversi lettori e scrivo bene che ogni nuovo libro che pubblico è scritto anche meglio del precedente e dunque, pur trattando spesso argomenti tecnici non banali, riesco sempre a spiegarli bene, confezionando un volume di facile e gradevole lettura. Il libro è consigliato a chi vuole approfondire lo studio della astrologia mondiale e collettiva, ma anche a chi è semplicemente curioso di scoprire come i movimenti dei pianeti influenzano gli avvenimenti terrestri. Giusto? Anzi, mi piace che parli di pianeti e non tanto di stelle. Spesso all'astrologo si chiede cosa ci dicono le stelle, ma in realtà chi si occupa di questa disciplina sa che in realtà andiamo a osservare e interpretare soprattutto i movimenti dei pianeti. Personalmente però resta ancora un po' titubante a parlare di influenze. Noi sappiamo che c'è una precisa correlazione fra eventi celesti ed eventi umani. Anche questo è un argomento che ho trattato diverse volte, anche in questo video. Ma ancora non sappiamo spiegare se si tratti di un vero e proprio rapporto di causa-effetto o piuttosto di una sorta di sincronicità di tipo junghiano. Comunque è assolutamente vero che questo volume offre un'importante chiave di lettura degli avvenimenti nazionali e internazionali, anche recenti, di assoluta attualità. Mi aggiungo che, personalmente, dopo aver studiato e approfondito tantissimo gli studi e gli scritti di Andrea Barbeau, molti dei quali ho tradotto dal francese all'italiano, sono piuttosto ottimista sulla piega che prenderà la storia negli anni, anzi ormai nei mesi a venire. Concluderà la recensione dicendo che si tratta di un'opera stimolante e originale che apre nuovi orizzonti di conoscenza e riflessione. Sinceramente mi sarei aspettato qualcosina in più da questa recensione, in particolare sul contenuto del libro. Ma, viste le malparate delle recensioni precedenti, forse è meglio così. Meglio una cosa più breve ma sostanzialmente corretta, piuttosto che una recensione più lunga e altamente elogiativa ma anche colma di inesattezze. E voi? Avete avuto anche voi esperienze curiose con l'intelligenza artificiale? Avete provato anche voi, come Red Romney, a chiedere a Siri o ad Alexa di parlare di voi stessi? O di un qualsiasi personaggio o evento famoso? Che risultato avete ottenuto? Scrivetelo nei commenti e suggeritemi altri esperimenti con cui mettere alla prova queste nuove tecnologie. Per il momento è tutto. Vi ringrazio per avermi seguito fino a qui. Se il video vi è piaciuto mettete un like, condividetelo e iscrivetevi al mio canale se non l'avete già fatto. Ciao ciao, alla prossima!